La qualità della ricerca scientifica, molto alta all'Università Magna Grecia di Catanzaro, a decretarlo è l'ANVUR, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario, secondo cui l'Università Catanzarese è prima del Sud per qualità della pubblicazione scientifica valutata. E grazie a questo brillante risultato, il Ministero della Ricerca Scientifica ha assegnato un premio in termini di finanziamento pari a più di 4 milioni di euro. Ma c'è un dato ancora più prestigioso per l'Ateneo Calabrese. Il gruppo di ricerca della medicina interna, coordinato dai professori Giorgio Sessi e Francesco Perticone, a cui afferiscono i professori Francesco Andreozzi, Franco Arturi, Angela Sciacqua ed Elena Succurro, si è collocato al primo posto nella gradottoria nazionale dei dipartimenti per il settore scientifico disciplinare medicina interna. Si tratta di una conferma. Lo stesso gruppo di internisti si era infatti classificato già al primo posto in Italia nella valutazione che aveva preso in considerazione il periodo 2014-2010. La qualità della ricerca del gruppo degli internisti è risultato superiore al 40% rispetto alla media nazionale e addirittura del 53% per quanto riguarda le pubblicazioni di eccellenza. Si tratta di un risultato eccezionale, pressoché unico nelle discipline mediche nella recente storia della valutazione della qualità della ricerca, ha commentato Giorgio Sessi, professore ordinario di medicina interna dell'Ateneo Catazzarese. Mantenere la prima posizione nella valutazione della qualità della ricerca nell'arco di un decennio non è un'impresa facile, in considerazione della forte competizione messa in campo dagli altri Atenei italiani. Speriamo, continua Sessi, che con i fondi aggiuntivi che il nostro dipartimento avrà assegnati dal Ministero, possano essere reclutati i nostri giovani collaboratori ancora precari. Da diversi anni ormai il Ministero valuta le università con criteri trasparenti e oggettivi e utilizza queste gradatorie per premiare i migliori Atenei. Secondo l'ANVUR, che ha presentato i risultati nel corso di un convegno ottenutosi a Roma lunedì 20 febbraio, questo ha comportato un miglioramento complessivo della ricerca in Italia e una riduzione del divario nord-sud.